Arriva a Napoli la compagnia stabile del teatro patologico con la prima mondiale della Commedia Divina, spettacolo promosso dalla Fondazione Ruth che andrà in scena al teatro Trianon Viviani il 23 e il 24 settembre. Un viaggio tra le storie dei ragazzi con disabilità psichica che incontrano i personaggi danteschi attraversando prima l'inferno della solitudine e dell'emarginazione fino all'incontro salvifico con una comunità accogliente, il paradiso delle persone che non si girano dall'altra parte. La regia è dell'attore Dario D'Ambrosi fondatore del teatro patologico seduto alla conferenza di presentazione di fianco al noto giornalista televisivo Domenico Iannacone. Ogni volta che si va in scena non si sa che cosa succede ecco per me questa è la bellezza del teatro. Questi ragazzi vanno in scena non so che cosa succede e allora capisco l'emozione di quando il pubblico mi dice abbiamo assistito a qualcosa che probabilmente non vedremo mai più. Quando si comincia a vedere da vicino la disabilità mentale ci si accorge che c'è un confine molto labile con la nostra tra virgoletta normalità e questo ci deve far riflettere. La presentazione dello spettacolo al Palazzo delle Arti di Napoli con la segretaria generale della Fondazione RUT Giovanna Martelli e Gilda Di Domenico presidente dell'associazione Inner Will di Napoli che sostiene l'iniziativa. Abbiamo selezionato sei educatori di strada in collaborazione con l'Opera Don Calabria che è il nostro partner strategico a Napoli in Campania. Interviene nell'ambito dell'educazione e della giustizia riparativa intervenendo direttamente sui ragazzi che sono in esecuzione penale esterna oppure hanno avuto problemi di rilievo pinale. Il nostro apporto è stato affinché si possa accendere una luce nella vita di questi ragazzi che possono avere una vita quindi priva di pregiudizi. Intervenuto l'assessore al welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese che patrocina l'evento. Come amministrazione noi dobbiamo eseguire queste giornate cioè fare in modo che l'amministrazione collabori con enti del terzo settore, fondazioni, cooperative, associazioni per creare progetti che noi non riusciamo a creare.